Se quattro con le Marche, il quarto è quello bolognese, il progetto è, se non sbaglio, del primi anni 50 e si interrompe inizialmente anche per la complessità e la vastità del lavoro necessario. In effetti è stato un lavoro di lunghissima durata e anche per lo stesso Orbizzani e per la fondazione Gramsci, per l'istituto Gramsci di allora, il lavoro non aveva mai fine perché la ricerca e anche l'individuazione di nuovo materiale progressivamente impediva di arrivare alla conclusione, alla parola fine e anche con il desiderio dello stesso Orbizzani di produrre e di dare le stampe a un lavoro completo era molto molto difficile arrivare ad una conclusione. Devo dire che l'idea di pubblicare questo lavoro che Orbizzani ha tenuto per tantissimo tempo, la prima idea di pubblicare questo lavoro che Orbizzani ha tenuto per tantissimo tempo tra le sue carte è stato di Pierpaolo Dattorre che gli propose appunto di concludere il lavoro, di darlo per concluso e di procedere con la stampa. Infine un ringraziamento particolare da parte mia, proprio anche personale, perché a nome della fondazione Gramsci va a Mara Chiari Sbiroli che è la curatrice del volume per aver ereditato diciamo con grandissima cura il lavoro, per avervi dedicato davvero con grande professionalità e attenzione la revisione e l'integrazione ma sempre con l'idea di lasciare il materiale il più possibile come l'avevamo ereditato da Luigi Orbizzani e come anche altri collaboratori, presente Beatrice Magno che a sua volta era intervenuta a collaborare con Orbizzani e a aiutarlo in questa stesura, la nostra intenzione era proprio quella di lasciare il materiale il più possibile legato a quel lavoro. L'eredità di Maria Chiari Sbiroli non è stata semplice, però con entusiasmo insomma, con entusiasmo e con una forte professionalità ha portato a termine il lavoro con alcuni interventi che poi lei stessa ci racconterà, anche con quella passione da bibliotecaria che ognuno di voi che frequenta la Fondazione Gramsci ha modo di verificare. Io a questo punto darei la parola al primo degli interventi, cioè ad Angelo Orne. Grazie, grazie. Ma il mio intervento tanto sul libro che è rappresentato da chi di dovere, quanto l'intervento di ricordi suscitati da questo libro, non lo faccio accenno nella mia presentazione. È stato detto bene, Franco della Peruta ha avuto un ruolo molto significativo nel volere a tutti i costi e giustamente che si arrivasse alla pubblicazione di questo repertorio. E l'ha voluto non solo e non tanto perché lui insieme a Gianni Bosio a inizio degli anni 50, come già stato detto, a pensare ad una collana di forte impegno storiografico ma anche e soprattutto di impegno civile, di ricerca di tutte quelle fonti che spiegassero il ruolo, la funzione, il tentativo di crescere e di emancipazione delle classi emarginate nel nostro paese dall'unità in poi, attraverso appunto le pubblicazioni che queste voci del mondo del lavoro, del mondo socialista, del mondo operai avevano rappresentato. Il progetto terminò poco dopo, perché è stato detto, quindi per la difficoltà del progetto stesso, a quale però ha avuto l'attesione tutti i maggiori storici di quella generazione, Sottarelli, Ragionieri, tantissimi personaggi che poi hanno fatto la storiografia italiana del mondo operai. E Della Perluta, ripeto, non aveva solo questa intenzione, diciamo, legata a una sua creatura, ma proprio credeva fermamente ancora negli anni in cui, così tanto frequentato, nella necessità assoluta di arrivare a queste conoscenze bibliografiche, di emeroteche, di un mondo che non si voleva persa. Non so, se diceva prima con i siriani, se questo è un mondo davvero finito e se questo testo non è un testamento di un passato. Può essere che sia così, poi il nome di voi giudicherà. Certamente ci vogliono anche un testamento del passato e questo, se lo è, testimonia appunto di una volontà di ricostruzione di quello che poi è stato il nostro Paese. Il nostro Paese che si è fatto, immettendo progressivamente all'interno del processo unitario, fatto da nuclei ristretti di centri sociali, progressivamente immettendo il mondo popolare, il mondo popolare fatto dai cattolici che erano la protezione, il mondo popolare fatto dal mondo socialista, repubblicano e radicale, che ovviamente era l'opposizione, l'opposizione diversa, adesso non stiamo a ripetere le vicende della storia italiana, ma certamente attraverso queste pubblicazioni si trascinò dentro all'unità d'Italia questa realtà popolare. Si riuscì, ecco, era in questo che della peruta credeva, era in questo, era questo che della peruta voleva certificare. Un assoluto tentativo continuo della peruta aveva di far capire che l'unità d'Italia era una cosa reale, concreta, fatta da tutti gli strati sociali. Se c'era un oppositore del religionismo storiografico in tema del risorgimento, questo era proprio Franco. Non sopportava quei discorsi che venivano da destra, ma anche molto da sinistra, che negavano il valore, il significato, la forza di un'unità d'Italia che aveva trascinato, con tutti i difetti, gli ispiri, i limiti aveva trascinato la nostra società verso il progresso, verso il futuro. In questo credeva. E questi libri erano strumenti per certificare questo ai suoi occhi. e quindi in questo. Poi purtroppo, probabilmente è stata una delle ultime cose che ha scritto, per ancora l'altro, questa presentazione, prima anche lui di lasciarci, di lasciarci perdere la sua vitalità, la sua forza costruttiva. Tenete conto del fatto che questo grandissimo storico, questa persona che viveva dentro gli archivi e dentro le biblioteche, quindi lo si diceva, lo si poteva individuare con un tocco di biblioteche per chi non lo conosceva. Era assolutamente all'opposto. Viveva dentro le biblioteche e dentro gli archivi, conosceva tutti gli archivi e tutte le biblioteche d'Italia. lui aveva fatto il viaggio di notte costringendo la sua forza e la moglie a girare per archivi. Quindi questo è uno dei ricordi che ha detto il nostro nome che è ancora vivo. È per nostra fortuna. E Franco della Peruta, però, aveva una vitalità non solo umana e fisica, il rapporto con gli altri, gli amicizi, i rapporti con i giovani, ma aveva una vitalità anche di ideazione storiografica. La curiosità, che è uno dei tratti fondamentali di un grande storico. Bisogna essere curiosi del mondo, della vita, per essere uno storico grande come è stato lui, come pochi ci sono stati in questi ultimi decenni. Quindi, scusate per i ricordi personali, ma credo che per un libro di questo genere, per un lavoro di questo genere, il tessuto anche di questi ricordi fosse necessario parlarvi. Comunque, vi ringrazio, do la parola a chi presenterà in maniera più precisa il testo. Grazie. Grazie. Dunque, in realtà il mio contributo non sarà tanto relativo a questo volume, ma alla ricostruzione del contesto, l'ambito in cui fu concepita e contrapresa da Luigi Arvizzani più di 60 anni fa questa ricerca ed è per me stata una coincidenza molto fortunata il fatto di poter disporre di questo lavoro, proprio mentre finalmente potevo ricostruire appunto la storia di questo progetto di ricerca collettiva, la bibliografia della stampa periodico per agli socialisti in Italia, per conto della Fondazione Peltrinelli che ha in un programma un lavoro sulla storia della biblioteca per l'appunto. Io avevo da molti anni una curiosità molto forte su questo progetto, ma non avevo potuto accedere proprio alla documentazione centrale che è quella conservata dalla Fondazione Peltrinelli che oggi è disponibile. E avevo una grande curiosità perché avevo due indizi su questa vicenda che mi stimolavano a pensare che dietro ci fosse qualcosa di interessante. Innanzitutto il fatto che nei cataloghi che raccoglievano l'opera e la storia della biblioteca Peltrinelli che ho studiato per la mia fase di dottorato, galleggiava diciamo fra i titoli delle collane e questa collana appunto intitolata la biblioteca della stampa periodica per agli socialisti in Italia, di resto la franca della peruta, con solo questi due titoli che sono stati riportati e che sono volumi gemelli del volume che oggi viene presentato, i periodici di Milano in due toni e i periodici di Messina, curato da uno studioso a me allora conosciuto, il tale Gino Ceretto. Quindi evidentemente si trattava di un progetto che non era dato a un fine, qualcosa si era interrotta. E l'altro indizio mi veniva dalla consultazione, dallo studio, dell'altra, della fondamentale ambito in cui questo progetto era nato, cioè la rivista di Gianni Bosio, il movimento operario, dove in uno dei fascicoli veniva pubblicata, è stata pubblicata una sorta di lettera circolare guida con le istruzioni metodologiche per realizzare appunto questa bibliografia. E' una bibliografia che è una delle istruzioni che si rivolgevano, senza nominarli, a una rete di corrispondenti provinciali appunto, che dalle pagine di movimento operario dovevano trarre appunto le indicazioni, le linee di vita per condurre questo lavoro. E quindi queste erano le uniche due tracce e soltanto molti anni dopo, prima potendo accedere al fondo di Gianni Bosio, a Mantua, che è stato reso disponibile prima di quello della fondazione anche di Pianelli, poi finalmente accedendo alla corrispondenza di Franco della Penta, sono riuscita a ricostruire questa esperienza e mi sono veramente molto appassionata alla storia di questo progetto fallito, ma spesso nella storia delle istituzioni culturali i progetti falliti sanno illuminare nei momenti di svolta più di quanto non lo facciano i successi e le opere realizzate e poi soprattutto questo carattere di progetto collettivo, diretti, discusi, impegnati in una ricerca, in Italia quella dell'inizio degli anni 50 in cui non solo non esistevano le linee, ma anche parlarsi al telefono era difficile. Ebbene, quindi approfondendo questa storia scopro che innanzitutto il progetto era un progetto ideato da Gianni Bosio e che negli anni di collaborazione tra Bosio e della Peruta, come condirettore di movimento operaio, appunto aveva visto l'affiancamento di Franco della Peruta a Gianni Bosio e successivamente, in modo anche un po' di indolore, il nome di Bosio è stato cancellato anche da quei prospetti che ricordavano appunto questa collana. Statt'è che Bosio contestò fino all'ultimo perché nonostante il suo, come è noto, licenziamento in tronco da parte di Feltrinelli nel 1953, almeno gli venisse riconosciuto che la bibliografia della stampa periodica era anche una sua creatura, anzi soprattutto una sua creatura. E di che cosa si trattava? Ecco, si trattava appunto di un censimento della stampa operaia, a rispetto del titolo le indicazioni precisavano che non si trattava di una ricerca solo sulla stampa socialista, bensì su tutte le pubblicazioni che recavano le notizie del farsi, come dire, di un movimento operaio autonomo e sorto dalle classi popolari e quindi anche si dava indicazione ai corrispondenti di censire la stampa cattolica, non aveva un movimento, le aree di dottrina sociale cattolica, ma anche chiaramente per esempio la stampa anattica o anche pubblicazioni di impronta moderata pur che, diciamo, dessero informazioni appunto su le prime esperienze organizzative del movimento operaio sul territorio. Quindi socialista ma non solo socialista e non solo, lo stesso termine bibliografia è inesatto del questo progetto perché il progetto di Bosi della Peruta, per l'appunto, era un progetto di catalogo, cioè le fonti non dovevano soltanto essere descritte nei loro indicatori bibliografici fondamentali, ma doveva essere dato l'indicazione dei luoghi fisici in cui le copie si trovavano. Perché? Perché l'idea di questa bibliografia era quella di dare impulso a degli studi che in quel momento la rivista Movimento Operaio reinventava, rifondava dopo, diciamo, la catastrofe e dalle macerie del fascismo. Quindi questa idea di costruire un'arte di corrispondenti in tutta la penisola, veramente da Aosta a da Rigento, che si recassero non soltanto nelle biblioteche nazionali, ma anche nelle biblioteche provinciali, nelle biblioteche comunali e ancora di più in queste linee guida che si leggono sul movimento operaio, andassero a giocare da ex militanti sopravvissuti e riemersi nell'Italia repubblicana dopo gli anni di persecuzione, perché potevano essere coloro che disponevano di collezioni di fogli periodici. Quindi anche in questa linee guida c'era già una prima indicazione di un rapporto con le fonti orali, diremmo oggi, come un elemento necessario. Ancora tra le indicazioni date a questi corrispondenti c'era quello di andare a verificare negli archivi di Stato tra le cartesi della questura, perché la stampa operaia aveva vissuto già prima dell'avvento del fascismo una perenne condizione di persecuzione da parte delle autorità politiche, quindi numeri unici o pezzi di piccole collezioni potevano essere reperiti fra i sequestri sostanzialmente, i sequestri di polizia. E ancora, per rendervi l'idea di come questo progetto fosse estremamente ambizioso, non solo non si tratta soltanto di una bibliografia ma di un catalogo che quindi presupponeva da parte dei ricercatori una vera e propria presa di contatto con i luoghi che sul territorio conservavano questi fonti, ma la scheda predisposta da Bosia della Peruta, poi coordinata appunto da Feltrinelli, prevedeva una descrizione interna del periodico estremamente accurata, estremamente dettagliata, tanto che più volte negli scambi e nella corrispondenza loro parlano di una piccola prima monografia su quel giornale e il che voleva dire sul movimento operaio locale di quella realtà, diciamo senza gerarchie tra i grandi centri del movimento operaio, nel caso di Arlizzani chiaramente alla fine dell'Ottocento è inola la capitale del movimento operaio prima ancora che lo diventi Bologna, una piccola monografia che doveva essere poi l'embrione di un successivo approfondimento destinato alle pagine di movimento operaio. E appunto per questo fu allestita con grande fatica, io veramente mi stupisco, ho guardato la corrispondenza della peruta dell'impegno profuso nella corrispondenza che si trova appunto sia nelle carte della peruta che era un grande archivista ma sul suo archivio non lo è stato come nel lavoro che ha svolto per altri contesti e dall'altro nella fase iniziale anche nell'archivio di Bologna. Io ho ricostruito una rete di corrispondenti provinciali che comprende circa 140 persone, quindi una grossa rete. Che cosa mancava a Bosio sia per portare avanti il movimento operaio sia per portare avanti la bibliografia della stampa periodica? Non sono capitali sostanzialmente e fu questo il sostegno dato da Peltrinelli perché i corrispondenti, può stupirci in tempi di lavoro gratuito e estremamente diffuso, quindi vanno pagati. Erano, potremmo dire, dei lavoratori cognitivi precari in qualche modo che ricevevano per ogni scheda compilata e restituita peraltro da un processo molto laborioso di compilazione delle schede un loro compenso. E devo dire che la cosa più appassionante di questa ricostruzione è per me proprio la prosopografia di questo gruppo di persone perché come ha ricordato il professor Varmi troviamo tra i corrispondenti alcuni di quelli che saranno poco dopo, qui stiamo parlando ancora proprio del 52 sostanzialmente viene avviata sotto la direzione e con il finanziamento di Peltrinelli questa ricerca, troviamo i grandi nomi poi della storiografia contemporaneistica del dopoguerra, sono già stati ricordati, il messo ragionieri, Giorgio Moro, Giuliano Procacci, che lavorano ovviamente a Firenze, nella Biblioteca Nazionale Centrale, che era un punto di snogo perché era un luogo che conservava delle grandi collezioni, delle prime bibliografie di stampa periodica, ma anche altre figure, Luigi Ambrosoli, che forse conoscete come storico della scuola, Cafagna fece un solo giornale, se non mi ricordo quale, per il volume milanese, e molti altri. Ricordiamo per esempio il giovane Valentino Parlato, appena rientrato dalla Libia, in quegli anni funzionario alla generazione del partito comunista di Agrigento, che fa la spiegatura dei periodici di Agrigento. E poi accanto a questi nomi più noti, un'intera leva di soggetti che all'epoca nel linguaggio militante, e allora venivano chiamati gli elementi qualificati, i compagni intellettuali e i partiti. Nelle province in cui Bose della Peruta non dispongono già di uno storico attivo nella rete di movimento operaio, ragionieri e gli altri che vi nominavano già allievi dei grandi maestri della generazione degli anni 30, ma soltanto con questa prima pattuglia non si sarebbe riuscito a coprire le 90 province, per cui si ricorre a cosa? Alle federazioni dei partiti, socialista e comunista, rivolgendosi a quei soggetti che lavorano nelle commissioni di cultura dei partiti, sostanzialmente, e che sono chi? Professori in scuola, oppure giovani laureati, che si impegnano con grande passione, con grande convinzione in questo lavoro. E quindi nella mappa dei corrispondenti emergono alcune realtà culturali, locali, di questo mondo intellettuale attivo nei partiti, nel partito socialista, nel partito comunista, con una forte propensione, proiezione sul lavoro di ricostruzione storiografica e la costruzione di uno spazio di ricerca per il movimento operaio che vanno dal giro dei redattori della terza per Bari, ai giovani insegnanti che lavorano nel convitto rinascita di Venezia, per esempio a Venezia, oppure attorno alla commissione culturale di Torino con Luciano Segre, dove si riuniscono i giovani laureati di Guido Quarza o di Walter Maturi, a cui viene assegnato questo piccolo, diremmo, lavoretto intellettuale, che è però, l'ho sottolineato del bellissimo saggio Davide Pius, una vera e prima lavoro di formazione di competenze in un terreno e su uno snodo della storia italiana, tutto da costruire, perché la storia dell'Italia post-unitaria durante il fascismo era rimasta in qualche modo bloccata, impantanata dentro ai paletti che il regino aveva dato alla storiografia e quindi questi giovani militanti disponevano di un numero molto limitato di pubblicazioni per capire da dove venivano gli spazi, gli ambiti e le idee dentro cui, con molta convinzione, spesso dopo aver fatto il bagno nell'esperienza resistenziale si trovavano a muoversi. Bene, tra questi corrispondenti trovo anche Luigi Arbizzani. Luigi Arbizzani, la prima traccia di un suo aggancio a questa esperienza è una lettera del 1950 a Gianni Bosio, conservata a Mantova, in cui si presenta come un funzionario, un sindacalista della confetti interna bolognese, che sin dall'inizio ha creduto nella rivista Movimento Operario, un appassionato e convinto abbonato fin dal 1949. Non so se qualcuno di voi ha mai visto i primi fascicoli di Movimento Operario, stiamo parlando di fogli quasi ciclostile, con la famosa mano di Gianni Bosio sulla copertina, a cui come no, poi nel 1952 Feltinelli portò in dote la possibilità di dare vita a una vera e propria rivista. E quindi Arbizzani scrive a Bosio, dandovi un consiglio, presentandosi appunto come un semplice lettore appassionato dell'apertura di questo cantine e successivamente nel 1952, loro si ricordano di avere a Bologna un giovane produttente e disposto ad entrare in questa avventura e Franco della Bruta gli propone di diventare corrispondente per questa bibliografia. Lui risponde immediatamente, qui nel fondo Arbizzani, questa lettera, con grande entusiasmo, scrivendo a Franco della Bruta, io non ho vaste conoscenze sul Movimento Operario perché abbia viva passione di acquisirne sempre più. Così dicasi dell'esperienza nelle ricerche per studi dell'importanza di quello che tu mi chiedi. Comunque proverei. Ecco, dopo pochi mesi Arbizzani aveva già realizzato le prime schede dei periodici conservati all'archigimnasio e questo comunque proverei, sì, è tradotto nell'impegno di una vita e nell'impegno di una vita di cui i materiali che avete portato appunto a immersione e conservati nel suo fondo all'istituto Gramsci sono una testimonianza straordinaria. Tra l'altro Arbizzani era conosciuto da Franco della Bruta come uno dei migliori corrispondenti, appunto portò avanti il lavoro subito in modo molto solerico e molto approfondito per un territorio appunto di grande importanza per l'origine del Movimento Operario come Bologna, tant'è che a più riprese si parla della possibilità che il volume di Arbizzani vada in stampa. Nel 1953 c'è una lettera di con, stiamo andando in stampa con Arbizzani, poi nel 57, poi l'ultima traccia che trovo nella biblioteca Feltrinelli, nell'archivio della biblioteca Feltrinelli è nel 60. Che cosa diciamo era successo? Succede che sostanzialmente intorno al 1955 la biblioteca Feltrinelli viene profondamente riorganizzata, c'è un grande cambiamento nelle priorità culturali, un grande cambiamento nel gruppo dirigente, Franco Ferri che all'epoca dirigeva la biblioteca viene allontanato, viene rimandato a Roma dove dirigerà per molti anni il distruttogrammi e Giuseppe del Boc gli subentra. Ma soprattutto in quel momento Feltrinelli dà vita alla casa editrice, quindi un po' si allontana dall'istituto, da quel progetto bellissimo, pionieristico a cui aveva dato vita raccogliendo le prime collezioni di libri, manoscritti, archivi e una prima energetica. C'è anche il fatto che intorno a quella trata alcuni degli storici di punta della bibliografia prendono nuovi impegni, in qualche modo come dire si stufano forse di questo lavoro un po' oscuro, preparatorio e sostanzialmente il progetto della bibliografia implode su se stesso per un po' nella peruta cerca di portarlo avanti, appunto portando almeno a realizzazione i volumi che erano ad uno stato più avanzato, ma non riesce anche perché il primo è di taglia i fondi. Nella vicenda della bibliografia, nel fallimento, nell'abbandono da parte della biblioteca del progetto non ci sono delle interferenze politiche, non è una vicenda legata a uno scontro tra socialisti e comunisti, c'è questa personalità molto particolare che era già già con il primo è, c'è la nuova linea, diciamo, culturale, storiografica proposta da giverte del blocco e quindi e soprattutto nel 56 c'è la fine dell'esperienza del movimento operaio nel cui ambito e a cui erano destinate sostanzialmente le ricerche che questo lavoro in mani di sfoglia di censimento dovevano produrre. In realtà negli anni, infatti in tratto dell'avvenuta in questa presentazione, credo fosse molto contento che finalmente dopo decenni fosse riuscito a, credo, sentisse un debito nei confronti di chi come Arbezzani aveva prodotto un lavoro veramente greco e che poi, diciamo, lo accompagnerà tutta la vita anche senza essere pubblicato questa attenzione a una fonte stampa. Ecco, vorrei dire solo due cose su questo elemento. In qualche modo, se conoscete un po' la storia della storiografia di quegli anni, questo progetto rappresentava in un certo senso l'anti-Manacorda in quel momento. Voi sapete che nel 53 la storia di Manacorda aveva scritto uno dei primi libri importanti che rifondavano, hanno atteso, contribuivano a questa rinascita di studi sul movimento operaio, che era la storia del Partito Socialista attraverso sui congressi. Allora lì si affermava un modello di lavoro su documenti ufficiali in quella visione tipicamente teologica, diciamo, dei comunisti degli anni 50, dall'utopriale scienza, no? Dalle, come dire, dalla frammentazione della fase anartica delle dispute tra socialisti fino all'approdo al partito, il partito come forma più moderna, di espressione, più matura, della classe operaria. In realtà Manacorda era molto consapevole dell'importanza di questo lavoro, tant'è che proprio in quel libro dice, io mi avvarrò molto quando sarà pronta la bibliografia della stampa periodica della sempre meglio di questo altro versante. Perché effettivamente se voi sfogliate anche soltanto la monografia di Agrizzani e quella milanese, la ricchezza di culture del lavoro e di culture politiche che presiedono all'elaborazione di un punto di vista, a una domanda di partecipazione delle classi subalterne alla vita politica, è sorprendente di una ricchezza estrema. E la fonte della stampa, ripeto, con questo approccio alla stampa è assolutamente privo di gerarchie, per cui l'Avanti cerca bisogno di una spiegatura più lunga, tant'è che viene affidata a Gaetano Raffè, che poi farà molti usi, convive con il numero unico della provincia di Gusto Arsizio che è capace di darci delle informazioni su un momento di conflitto, su una rivendicazione, su gruppi e circuiti intellettuali che si collegano finalmente alle masse e che pongono allo Stato appunto il tema delle masse. Quindi credo che in qualche modo oggi c'è un piacere e uno stimolo a riscoprire quella proposta, che è una proposta appunto molto legata al progetto storiografico di Movimento Operario, di una storiografia delle culture del lavoro nel territorio e appunto al ricorso a questo tipo di fonte molto preziosa perché naturalmente è una fonte a cavallo con la storia politica e storia sociale in qualche modo e non è un caso che anche della peruta e gli sviluppi della storiografia di della peruta in direzione della storiografia sociale abbia alle spalle questo lavoro appunto di presa di contatto con questa miriade di fonti che accendevano per una generazione affamata di conoscere questa storia, questo affresco delle culture del movimento operario. Ecco, io concludendo, un progetto appunto fallito, chissà se andassimo a cercare perché la Fondazione Petrenelli non conserva tutto il lavoro dei corrispondenti, molto lavoro dei corrispondenti o fu fatto male, insomma nella corrispondenza si trovano anche le correzioni della peruta perché alcuni di questi non avevano una formazione adeguata, un lavoro così pignolo come quello poi condotto da Ravizzani, quindi molto di questo materiale è andato disperso, però appunto in qualche modo a partire da questo lavoro di Ravizzani possiamo immaginare qual era il progetto e qual era il lavoro di molti altri. Oltre al suo appunto soltanto altri due corrispondenti sono riusciti negli anni a portare avanti autonomamente, a portare ad un esito oggi consultabile le loro ricerche. Uno è Luigi Ambrosoli che fece il corrispondente per Varese e uno è appunto Santarelli, in realtà non lui ma probabilmente un suo allievo, una parte in realtà molto piccola del lavoro che aveva fatto sulle Marche Santarelli perché si tratta soltanto dei periodici di Pedro e di Rubino. Quello che mi rimane come domanda è che mi viene spontanea la conclusione del professor Varmi, cioè se questo sia un testamento, diciamo lettera morta in qualche modo o chissà che possa essere un punto di partenza per nuove ricerche sullo sviluppo, la nascita del movimento operaio alla fine dell'Ottocento, un periodo storico a cui secondo me oggi la sensibilità degli storici del lavoro, in generale gli storici sociali oggi va con più curiosità di quanto non sia l'esperienza dell'età fordista, come dire, cioè c'è una riscoperta, c'è un desiderio di riguardare alla costruzione di forme di organizzazione sul lavoro e sul territorio di tipo molto pluralistico e molto composito e credo sia una suggestione nel presente. Quindi se in qualche modo l'università e l'accademia metterà a disposizione in qualche modo la possibilità di fare ricerche, io mi auguro, spero che questo lavoro di Arbitrani non rimanga solo come un testamento, ma sia l'inizio di una ripresa di nuovi studi su quegli anni e su quel momento centrale sparchiato della storia d'Italia. Grazie. Grazie davvero per questa introduzione storica prestigissima che ha raccontato di noi anche che mi vedremo nella ricerca quando sarà completata, ma che ci aiutano anche a capire meglio il lavoro che è stato svolto. L'ora la parola a Rosalia Campioni come protagonista del progetto. Confesso che quando lo scorso anno ho avuto in mano fisicamente il volume di Luigi Arbizzani stampato dall'editrice compositori ho tirato un sospiro di sollievo. Il sospiro di sollievo è per la promessa mantenuta, promessa che era stata fatta addirittura dal mio predecessore, dal Barino Pisani a Luigi Arbizzani e come racconta Siriana Soprani una nuota all'edizione che dà conto appunto di questo lungo percorso. Ma ho provato anche soddisfazione per l'uscita nella collana erba, la quale sono sempre stata molto affezionata perché è una collana di repertori, di cataloghi utili alla professione e in questo uccite le due persone o di cui si sentiva l'allocanza soprattutto da parte degli storici. Mi limitò una citazione, quella di Franco Andreucci e Tommaso Detti che nell'introduzione al dizionario biografico del movimento operario italiano, dopo aver sottolineato la crescita dell'interesse per la storia del movimento operario, rilevavano, cito, la carenza di strumenti di informazione e di lavoro e in particolare lamentavano che la bibliografia della stampa periodica operario e socialisti italiani dell'istituto Feltrinelli si fosse arrestata dopo la pubblicazione delle parti con Cervinetti in Milano e Messina Siamo nel 1973. Il valore dell'indagine della ricerca condotta da Luigi Aldizzani sui periodici di Bologna e Provincia è stato ribadito, come è stato detto più volte qui, dal direttore di quell'iniziativa che era appunto Franco Della Perotta. In varie occasioni pubbliche, ne ricordo una, quella di conservare il novecento dedicato nel 2001 proprio alla stampa periodica. Franco Della Perotta diceva, in questi ultimi cinquant'anni nel trattamento dei periodici si è utilizzata anche, oltre alla catalogazione di tipo bibliografico, una catalogazione tipologica, cioè, se cercate di individuare per categorie una serie di periodici, dando, oltre ai dati esterni, anche descrizione, sia pur sommarie, dei contenuti e degli orientamenti. La prima esperienza in tal senso fatta a Raffel Trenelli, dove lavoravo a proposito dei periodici operai socialisti italiani dal 1861 al 1926. Per quanto riguardava gli studi sul movimento operai e socialista, si veniva da un vuoto pneumatico e si pensò quindi che fosse importante individuare su scala nazionale, provincia per provincia, i titoli dei periodici politici, operai, socialisti, cattolici, sindacali, ricercati nelle varie biblioteche e darne poi la descrizione interna. L'iniziativa andò avanti per alcuni anni, uscirono due volume dedicati ai periodici operai socialisti di Milano e un volume sul periodice di Messina, a opera di Gino Cervetto. Poi l'editore Feltrinelli portò l'iniziativa, poiché non era remunerativa, ma, in cui molto importanti di questo lavoro esistono alla biblioteca Feltrinelli. Per esempio, per Bologna, questo lavoro è stato fatto da Luigi Arpizzani, che ha dedicato anni al suo completamento e forse dovrebbe pubblicarlo grazie all'Istituto Bene e Cultura di Gino Cervetto. Se devo confessare una cosa, della peruta fu molto più dura quell'intervento rispetto allo scritto che poi attasso qui. Io in prima fila di fianco avevo la sua moglie, la lida dell'elogare e praticamente, lo so, all'Istituto Bene e Cultura la colpa che ne fosse ancora uscito. Dopodiché, appena finì di parlare, gli disse a Franco della Peruta, guarda che non si può pubblicare quello che non si ha in mano. Quindi, questo per dire tra parentesi, perché evidentemente ci treva moltissimo, proprio, Franco della Peruta, questa pubblicazione. Ecco, già, scusate questa tembra in testimonianza che mi riporta a quella giornata, già da queste riflessioni, seppure sintetiche, della Peruta si colgono, appunto, le caratteristiche del repertorio che non si limita alle descrizioni bibliografiche dei periodici, elencate appunto in ordine cronologico di pubblicazione, ma per ognuno dà indicazioni circa l'orientamento e il contenuto prevalente. Sono scritte molto ricche. Il lavoro di revisione per la pubblicazione della colana dell'Ibici, iniziato quando l'avventura era ancora in vita, come è stato detto, si è rivelato più complesso del previsto ed è stato, infine, ripreso per conto della Fondazione Granchini di Aramagna e portato a compimento da Maria Chiara Svironi, che ringrazio molto e che poi illustrerà i criteri seguiti. Qualcuno dei presenti, a mio parere, però, si sta chiedendo se valeva la pena pubblicare una ricerca intrapresa più di mezzo secolo fa, quando non esisteva ancora internet e non erano disponibili i cataloghi online e periodici digitalizzati come oggi. Ve ne sono tanti e si trovano. La risposta, a mio parere, è affermativa, sotto diversi punti di vista. Appunto, il primo è che i cataloghi online, mi riferisco in particolare a SDM o all'archivio collettivo nazionale dei periodici, il cosiddetto ACMP, consentono l'accesso alle descrizioni bibliografiche insieme alla collocazione delle biblioteche, ma non comprendono le descrizioni interne, quelle di contenuto e la vita reale di ciascun periodico. Quindi sono molto, molto meno informative rispetto a quello che ci danno queste schede. A Delivero, però, su Bologna, occorre dire che tre anni fa è uscito uno strumento nuovo che ha visto la luce, appunto, grazie alla biblioteca di Imola. Imola è già stata citata come una delle città principali per questo discorso che stiamo trattando oggi. e il volume è pubblicato, appunto, tre anni fa dall'antica di Imola, si imputola Leggere la città, giornali imolesi dal settecento a oggi e comprende, se non ricordo male, trecentosettanta titoli con anche schede di contenuto di giornali imolesi usciti dal settecento 2019 al 2010, però, appunto, si tratta solo dei giornali che hanno visto la luce a Imola. Però è un lavoro che, in un certo senso, richiama questo come modalità, perché, appunto, non ha solo descrizione esterna, ma ha anche descrizione interna. Del resto, Arbizzani conosceva bene la costituita collezione conservata a Imola e, in particolare, ricca soprattutto di numeri unici, in particolare anarchici, con titoli davvero eloquenti come la Canaglia, la Plevaglia, la Marmaglia, la Poveraglia e, intervenendo a un convegno importante che viene fatto a Bologna, dalla Regione della Romagna, insieme al Comitato per la Storia del Giornalismo, all'Istituto per i Veri Culturali, nel 1978, Arbizzani diceva, sostendo che i fogli numero unico siano da considerarsi periodici e che, escludendo tali numeri unici, si esclude una gran parte del giornalismo. A Imola, ad esempio, nel 1890, nasce un giornale anarchico, appunto la Canaglia. Il primo numero, il supplemento al primo numero, il secondo numero e il supplemento al secondo numero vengono tutti sequestrati. I redattori reagiscono pubblicando dei numeri unici. In effetti continuano il loro periodico. I vari numeri unici escono con la stessa periodicità, cambiando di volta in volta i nomi dei redattori per il gerente responsabile. Così pubblicarono per un mezzo anno il loro giornale, sotto forme che oggi ci appaiono di numero unico. perché fare il numero unico non comportava avere l'autorizzazione di legge e distribuiva le responsabilità, che voleva dire anche il carcere, dal gerente responsabile a tutti i redattori. Nella regione emiliana questi carri sono centinaia e centinaia. Tornando ai motivi di interesse per la pubblicazione alla stampa, occorre rilevare che Arbizzani ha svolto il censimento esaminando direttamente i periodici presso gli archivi di stato di Bologna e Napoli e in una quindicina di biblioteche, non solo della nostra regione. Ha consultato anche i periodici conservati presso il principale archivio nazionale della stampa periodica italiana, la biblioteca nazionale centrale di Firenze. e lo ha fatto prima dell'autunno 1966. Ossia, l'anno in cui la nazionale è stata colpita dalla disastrosa militia, con inevitabile perdita di non poche testate, in quanto i giornali erano stati collocati per la massima parte nel sottosuore della biblioteca. Ciò non sorprende perché tra le biblioteche e la stampa periodica di norma vi è un rapporto ambivalente. Da un canto i bibliotecari sono convinti dell'importanza e della rilevanza informativa che abbiamo di bibliotecari in sala dei periodici, che si allestiscono spesso anche degli apporti spazi per la consultazione, ma dall'altro si lamenta, insieme alle difficoltà di trattamento, l'eccessivo ingombro che si scontra appunto con l'annosa carenza degli spazi delle biblioteche. Per non parlare poi dei problemi conservativi che sono già all'origine dei periodici, con l'uso di una carta che è poco di qualità. Ecco, quindi nessuno dubita ovviamente dell'importanza dei periodici di interesse locale per la conoscenza del territorio e in particolare della vita della comunità. Anche agli argomenti proprio dell'attività delle bici a favore delle biblioteche vi fu un intervento voluto a preservare e a valorizzare le raccolte storiche dei periodici posseduti dalle varie biblioteche comunali. E proprio a seguito di quel convegno che ho citato prima, i giornali di biblioteche archivi, l'Ibc promosse una campagna di microfilmatura davvero grossa, con un grosso impegno economico, 700 milioni di lire di all'ora, proprio su queste raccolte dei periodici. L'attività è proceduta con minori mezzi, è inutile dirlo, e anche in anni più recenti con interventi di digitalizzazione che hanno coinvolto anche raccolte di periodici locali proprio di questo carattere politico anche presso istituti privati come la Biblioteca Ginobianco a Forri e li trovate digitalizzati in rete. E inoltre, nell'esercizio delle funzioni di tutela, la soprintendenza per i beni librari ha sempre legato le richieste di scarto relative alle raccolte dei periodici locali e, semmai, ne ha indirizzato il trasferimento e il deposito verso strutture idonee qualora appunto l'istituto non fosse in grado di conservarli adegatamente. Sono già state dette molte cose, quindi mi allio alla conclusione citando semplicemente il primo riscontro positivo che ho avuto riguardo a questa pubblicazione ed è successo allo scorso quando ho donato, fresco distante, il volume a Valerio Evangelisti il quale l'ha subito sfogliato con una grande curiosità e ha espresso un profondo apprezzamento infatti la lettura dei giornali di quel periodo è stata per lui fondamentale per scrivere la storia di queste famiglie romagnone che andiamo a riogli su cavallo tra 800 e 900 che sono protagonisti della trilogia che sta scrivendo intitolata Il sole dell'avvenire appunto dal titolo del periodico socialista rivoluzionario stampato a Ravenna nel 1882 con chiaro riferimento all'avanti di Imola e ovviamente subito sequestrato quindi dopo continuò con altri titoli di comune e così via. l'accurato e il nuovo lavoro di Luigi Arbizzani fornisce a mio parere quindi una pussola tuttora utile per navigare distesamente grazie alla stampa non è la stessa cosa consultare delle schede a computer per avere le carriere in mano questo è il mio parere anche se so che essere vicino al presidente è più orientato sul digitale e fra altre volte distesamente appunto fra più di 500 titoli di periodici che hanno avuto una vita complessa e quindi davvero le schede sono molto utili per capire le dite interne e periodici grazie anche ai 4 e 11 che corredono appunto questo repertorio ringrazio la famiglia in particolare la figlia Arcadia la fondazione Gramsci e i presenti che hanno avuto la pazienza di ascoltarla grazie applausi e la parola alla giovane inguettrice che ha iniettato questo lavoro perché ha comunque svolto egregiamente fino alla sua conclusione della cura Maria Chiari grazie grazie a Sera Sperani e ovviamente il primo ringraziamento che mi dovete concedere proprio a Siriana e alla Fondazione Gran Cimilia Romagna che mi hanno concesso l'onore e anche l'onore di portare a termine questo lavoro. Ci tengo particolarmente perché è stato il primo incarico ufficiale che l'ho avuto presso la Fondazione Gran Cimilia Romagna e che mi ha traghettato dall'essere una volontaria civile a diventare bibliotecare della Fondazione, quindi un passaggio importantissimo professionalmente parlando. Da subito mi sono detto quanto che più che un onore era davvero di morire perché ereditavo un lavoro enorme, importante e sterniato, mai portato a termine. Parlando in termini appunto di conservazione del documento digitale, cartaceo verso il digitale eccetera, non posso non sorridere pensando che il mio primo approccio con i volumi da Quintani è stato in 5 floppy disk che nel 2009 mi sono stati consegnati quando ormai i computer non avevano ottene neanche la porta per leggere i floppy disk e che era praticamente l'ultima versione, quella che più si avvicinava all'idea che Arnizzani aveva di come sarebbe dovuto essere il repertorio una volta stampato e che era il lavoro conclusivo condotto insieme all'ipote, proprio in previsione della stampa. Grazie comunque all'informatico i file sono stati immediatamente recuperati e resi disponibili e da lì è partito poi il mio lavoro di revisione su questo materiale che è consistito comunque in un confronto costante tra appunto questi file digitali e quelli che erano i materiali d'archivio donati dalla famiglia Arnizzani e conservati presso la fondazione Gracci. Devo dire che io purtroppo non ho conosciuto personalmente Luigi Arnizzani ma nelle sue carte, nel suo archivio, nel suo lavoro l'ho sentito molto presente nel senso che ho potuto toccare con mano la cura, la precisione, l'importanza che per lui rivestiva la documentazione storica e che davvero ha permesso poi alla fondazione Gracci di acquisire un patrimonio liberale documentario incredibile, enorme. Noi ancora adesso continuiamo a catalogare la documentazione che lui ci ha donato, non riusciamo a portare a termine questo lavoro perché è un'attività in mano di materiali e a fianco al materiale di preparazione del repertorio c'era anche la collezione dei periodici socialisti e democratici che Luigi Arnizzani aveva raccolto e aveva conservato come mumpio di documentazione a sé stante e che gli è servito per la compilazione delle schede di questo repertorio. Alcuni dei periodici che sono censiti nel repertorio, alcuni dei numeri unici, prima di arrivare alla lavorazione per la stampa non erano presenti nessuna biblioteca in Italia, li abbiamo ritrovati nella documentazione di Arnizzani, adesso sono rincacciabili attraverso i cataloghi online del servizio bibliotecario nazionale ma se Arnizzani non li avesse conservati con la cura che lo contraddistingueva quella documentazione adesso sarebbe perduta. Quindi anche per questo è una piccola testimonianza di quanto questa figura sia stata importante non soltanto per la storia di Bologna ma appunto per la storia del movimento socialista operario a livello nazionale. Quindi il mio lavoro è stato semplicemente quello di traghettare questo materiale comunque ancora parzialmente incompleto e di portarlo alla stampa. La decisione è stata quella di non toccare quello che Arnizzani aveva scritto, quindi qualsiasi mio intervento all'interno del volume è inserito in nota per evitare manumissioni di qualsiasi tipo sul suo lavoro. L'unico caso in cui sono intervenuta proprio sulle schede era quando si trattava appunto di dover correggere degli errori magari di battitura sul titolo che ovviamente avrebbero predidicato la possibilità poi di andare a cercare magari nei cataloghi e così via. Ma appunto il lavoro che potete vedere all'interno del volume è interamente un lavoro svolto da Arnizzani con una serie di integrazioni in nota dove si è reso necessario perché magari per esempio mancavano alcuni dati come il luogo di pubblicazione piuttosto che è la collocazione nelle biblioteche italiane. Il fatto che appunto questo progetto di collana di repertori prevedesse anche l'inserimento della localizzazione all'interno delle biblioteche anche oggi non è scontato e mi riallaccio a quanto detto in precedenza da Rosario Campioni perché intanto nella mia pratica quotidiana come bibliotecaria mi rendo conto che ormai si pensa di poter trovare tutto su internet e si pensa di poter trovare tutto anche sui cataloghi non è così. Lo ribadisco continuamente agli studenti che andavano a fare ricerca in biblioteca non basta. Un documento che non si trova tramite catalogo non è che non esiste forse semplicemente non è nel catalogo online ma è nel catalogo cartaceo che ancora è un complemento purtroppo per fortuna fondamentale nelle biblioteche storiche. E a questo proposito un altro aneddoto che vorrei ricordare insieme a voi è stato il ritrovamento in una biblioteca storica nella quale sono andata a cercare dei periodici che avevo bisogno di completare con i dati io sono arrivata in questa biblioteca dicendo voi avete questi periodici e questi numeri unici ma non sono nei vostri cataloghi. Il problema è che io non li trovo neanche nei vostri cataloghi cartacei ma io ho la collocazione perché Arbizzani aveva segnato la collocazione di questi periodici e i bibliotecari mi hanno detto ma è sicura? Sì, sono sicura perché io ero arrivata a un punto di certezza cioè se Arbizzani diceva che quel periodico era in quella biblioteca il periodico era lì sicuramente ed effettivamente guidato dal bibliotecario ho raggiunto lo scaffale e il cassetto contenente dei numeri unici che sono finalmente emersi. Dopodiché attraverso la discussione con il bibliotecario è emerso che un bibliotecario andato in pensione ormai da almeno sei anni e così via aveva curato un catalogo dei numeri unici a schede che era rimasto dimenticato insieme al suo materiale di lavoro e quindi questo catalogo non era stato più ritrovato e questi materiali che erano conservati negli scaffali della biblioteca erano persi perché nessuno aveva più la memoria della loro esistenza e grazie a lui Arbizzani questo catalogo è stato recuperato. Quindi anche appunto può sembrare una cosa un po' naif molto appunto da bibliotecare il piacere dell'esercizionamento di questo materiale però magari questi numeri ci serviranno più avanti per la ricerca di qualche storico e grazie a Arbizzani appunto sono stati restituiti alla ricerca storica e credo che questa fosse la cosa che di più lo avrebbe reso soddisfatto del suo lavoro perché il suo orientamento per quello che ho potuto vedere attraverso il lavoro era sempre quello di conservare perché a mandare perché c'era una lezione e un insegnamento che andava tramandato alle generazioni future. Quindi io voglio chiudere appunto in questo modo ringraziando Luigi Arbizzani per il loro svolto e ringraziando tutti i presenti che mi hanno dato la possibilità appunto di avere il mio nome legato a questa importante pubblicazione. Grazie a tutti. Io credo che siamo tutti abbastanza soddisfatti di questa giornata e delle cose che abbiamo ascoltato credo che se il testamento lo vogliamo considerare sia sicuramente un testamento molto attivo molto attivo e anche molto utilizzabile dalla ricerca, ne abbiamo già alcune dimostrazioni già da oggi in biblioteca di richieste di utilizzo, venivano anche citate alcune quindi credo che questo sia comunque uno strumento che funziona perfettamente anche per la nostra ricerca a giorno d'oggi. Vi consiglio di leggere una lettura molto breve, molto veloce però molto significativa che è appunto l'introduzione di Franco della Peruta perché secondo me è una riflessione che forse può avvenire da un confronto tra ieri, tra quello che ormai è così lontano il tempo come gli anni cinquanta e come le ragioni che hanno determinato questa ricerca, da quella, secondo me, da quella lettura si può forse cogliere e riflettere su com'è cambiata la cultura storica, quella dei ricercatori, quella degli storici e quindi quella anche che in qualche modo noi acquisiamo, molti di noi acquisiscono anche dal lavoro che svolgono o da quello che ascoltano in giornate come quelle di oggi. Anzi, io credo che sarebbe interessante vedo che ci sono presenti alcuni giorni storici e sarebbe anche interessante fare una riflessione su quella che è stata la cultura storica di generazioni come quelle di Franco della Peruta, di Luigi Artizzani e di quegli storici che venivano citati prima e quella invece che è la cultura storica di oggi di chi fa ricerca ma anche di chi la ricerca poi appunto ascolta, segue e ne fa tesoro perché forse questo cambiamento ci può anche aiutare a capire un po' meglio il nostro tempo che invece a volte facciamo così tanta fatica a cogliere e a capire. Io vi ringrazio molto e al prossimo appuntamento grazie ancora di incontrare la biblioteca per averci spiegato. Applausi Grazie Grazie Grazie